Pronti ragazzi? Friggerci il cervello? Vai! Let's go! Feminista in tv, se ascolti trap sei femminicida. Oh, io non ascolto trap quindi non so di cosa stia parlando, ma vediamo. Perché l'ascoltano gli adolescenti nella musica trap. Assolutamente. E la donna nella musica trap è trattata in quel musica. Siamo sessuali. Scusa ma, allora, ho sentito solo i primi 9 secondi, ma anche nella musica hip hop, negli anni 90, 2000, la donna era sempre big boobies, big booty, tutte le robe, no? Adesso però, con la musica trap, adesso ci svegliamo fuori? My bitches, my money, hanno sempre detto soldi, le troie o quello che è insomma. Ma cosa di... vabbè, guardiamo. Ma di che ci sorprendiamo se un giovane di 22 anni considera una donna di 22 anni un oggetto tale per cui io ti tolgo la vita? Sapete qual è una delle cose che più... Oh mio Dio, ma perché bisogna passare da una cosa del genere a qualcosa di così estremo? Io non capisco, raga. Io non credo che siano le canzoni a fa... Cioè, magari potrebbero anche influire le canzoni, ma non sono solo quelle che ti fanno fare... ...al cervello. Mamma mia, guardiamo. Contraddistinguono una mentalità da regime totalitario, la censura. E in questo nuovo video vedremo fino a quanto questo bellissimo paese riesce a strumentalizzare una tragedia che ormai è avvenuta tipo tre settimane fa per spargere panico e odio e censurare con ignoranza tutto ciò che non riesce a comprendere. Piccolo problema. Io di trap, come dire, non ci capisco un c***o, non sono molto informato. Ed ecco che, in mio aiuto, in questo video ci sarà il leggendario Passamontagna, che ora è tornato su YouTube Italia con il nome di Dillo Senza Piangere. Lui ci saprà sicuramente dare ulteriori dettagli. Quindi io direi di iniziare. Ringrazio Dardanam. No, no, raga, non è come dite voi, che una canzone potrebbe farti uccidere una persona, né tanto meno, non è che se ascolta Sfera uccide le persone, no, non è quello. Nemmeno come quella storia di tot tempo fa, quando questi tre YouTuber o chi erano, non mi ricordo, avevano fatto l'incidente e purtroppo era morto un bambino, vi ricordate? In macchina, quando hanno fatto quella roba in macchina, che dicevano, eh tutti gli YouTuber adesso sono così. No, non è così che intendono dire, quello che vogliono dire queste persone, che fanno, che arrivano così tanto al limite, e quindi dicono le cose così esagerate, voglio semplicemente dire che la musica potrebbe influenzare. Però non è soltanto quello, ci sono cose molto più gravi che vanno a influenzare. Magari la musica potrebbe essere quella goccina che ti fa traboccare il vaso, però non è quello il punto principale o il problema, secondo me. Già, Exploding Robot e Lorenzo per le donazioni. Lorenzo, tra l'altro, vai tranquillo, come dico sempre, un sostegno fatto volontariamente non è mai piccolo, andate sereni. E grazie mille ancora, ovviamente. Detto questo, iniziamo subito. Ma lei parla della trap italiana? La trap italiana? O la trap in generale? Di che sta parlando? Ragazzi, non trovate interessante il fatto che dopo millenni di storia ci sia gente ancora non in grado di distinguere la finzione dalla realtà? Un po' come pensare che i videogiochi portano alla violenza. C'è una sparatoria in America, il ragazzino aveva problemi in famiglia, problemi psicologici non attenzionati e dei traumi alle spalle, ma ha GTA V nella console. E quindi sicuramente colpa di GTA V, no? Diciamo che la musica che si fa in una determinata epoca dipende molto dal contesto in cui viene fatta. È un po' il catalizzatore di quel contesto. Come il rock è un movimento di protesta contro l'establishment, ad esempio. L'hip hop, essendo un movimento culturale, non è solo rap, ma comprende anche il breaking, il graffitismo, ad esempio. In generale comunque è un movimento di strada, diciamo, e racconta tematiche come povertà e corruzione, squilibri sociali, eccetera. Quindi l'arte spesso racconta il contesto in cui si trova l'artista, ma non è esatto dire che è solo il mondo a influenzare l'arte, succede anche il contrario. Ad esempio Rocky Joe, il manga di Takamori, racconta di un giovane che diventa pugile, che vive quotidianamente la vita degli appartenenti al sottoproletariato, vive nella miseria, ma tramite la box dimostra che gli ultimi possono farcela, possono... In tantissimi casi è una cosa simile successa, in tantissimi casi che la gente... ma anche i rapper, i trapper, quelli che cantano, non cantano, pittori, non pittori, qualsiasi cosa, partono dalla miseria e grazie alla musica, sport e così via, riescono a salire in alto. Non avere un futuro. Infatti Rocky Joe è la traduzione che noi occidentali gli abbiamo dato, ma il titolo originale è Ascitano Joe, cioè Joe del domani. Quindi è sicuramente il mondo reale in primo luogo ad aver ispirato il manga, questi contesti ovviamente esistono, ma questo manga è diventato poi catalizzatore di ciò di cui parla, è diventato un simbolo della lotta di classe e dei lavoratori che affollavano la periferia di Tokyo. In pratica Joe è diventato il portavoce degli ultimi. L'arte è uno dei modi più efficaci per diffondere un messaggio, per parlare anche di qualcosa come le condizioni tragiche di alcuni contesti giapponesi in questo caso. E ci sono state vere e proprie proteste in Giappone nel nome di Rocky Joe. Quindi prendete tutto questo discorso che vi ho fatto e tirate lo sciacquone perché la verità è chiaramente un'altra, ovvero... Di che ci sorprendiamo se un giovane di 22 anni considera... Un messaggio di un uomo so... Questa donna quanti anni avrà, chissà? Sembra sui 36, tipo? Una donna di 22 anni un oggetto... Quindi se la criminalità è elevata, la gente cresce in condizioni pietose e viene educata alla violenza fin da giovane. Però nel momento in cui osano parlare di questa cosa, tu guarda come si permettono, è colpa loro se a catena una persona uccide una donna. Non della scarsa educazione di quella persona, non di varie problematiche sociali o eventualmente psicologiche di questa persona. Mi chiedo cosa ne pensa Dillo Senza Piangere di tutto questo. Conoscendolo la sua risposta sarà molto... Cioè si riferisce a lei con Dillo Senza Piangere? Interessante. Bagata, tranquilla, non offenderà assolutamente nessuno. La prima volta che ho visto questo TikTok, volevo mandare un mio fidato sicario con uno sciattola frammentazione nella sede del programma TV per eliminare il bersaglio e poi fare un video. Ma alla fine ho deciso di farci un video sopra e poi mandare il sicario. Ops, mi sono autosnicciato. E da me ragazzi aiuta. Dillo Senza Piangere è uno YouTuber? Ah, è questo qui? Ah. Te mi aiuta, aiuti il sicario, sono io. Questo bastardo mi sfrutta, ho solo 11 anni. Brutto macaco pezzo di m***a. Ti avevo detto di chiudere il cesso, portatelo in cantina e rinchiudetelo per una settimana. Ma cosa sto vedendo, non capisco. Torniamo sul tema, la donna che ha detto sta sto***ata. Sulla trap evidentemente non sa che la musica maschilista di cui parla è spinta su TikTok ogni giorno. Da delle basce che ci ballano sopra, tipo lei. Te me lo s***a faccio tutto il c***o. Vabbè, è andata così. In realtà prima vi ho parlato di censura, e non ho esagerato. Infatti ultimamente ha fatto discutere la decisione di un sindaco. Ma perché le persone parlano senza tipo quella signora lì? Vabbè, bisogna vedere anche cosa stava dicendo il discorso e tutto quanto. Ovviamente vanno a prendere solo delle frasi che fanno comodo a loro. Ovviamente. Però... C'è, boh, non lo so raga. Di un litorale laziale di impedire lo svolgimento di un concerto di Amy Schilla. Perché la sua amministrazione è sempre stata attenta al tema della violenza di genere. Amy Schilla ha annullato il concerto alla Dispoli. Che cazzo è la Dispoli? La Dispoli, come si dice, non lo so. E la polemica sui testi. Il sindaco un'incomprensione? Rapper avrebbe dovuto esibirsi nella notte di fine anno e la polemica è la decisione del primo cittadino? Eh? Manco i manga si possono comprare? What? Il concerto di Capodanno deve essere una festa e non un momento di scontro? La mia amministrazione è sempre stata attenta al tema della violenza di genere sostenendo tutte le iniziative possibili per contrastare questo fenomeno. collaborando con le forze dell'ordine e supportando le vittime, le donne vittime di violenze minori coinvolte, comprando le ragioni di chi ha espresso contrarietà sul contenuto di alcuni testi, ma ah, per le canzoni! Fenomeno, supportando le donne vittime. In pratica a fare tutto questo scandalo è stata una canzone di Amy Schilla, che in certe rime diceva, ad esempio, voglio vedere la vita fuggire dai tuoi occhi con quella cornetta di Cispozzo. Tremendo, vero? Minchia, vero è un po' tremenda come frase, cioè è un po'... Sì, è un po'... Capisco perché sta signora sta dicendo così. Sì. Già. Beh, sì, dato che questa è una canzone, dal punto di vista, come si può benissimo capire, dell'aggressore, che ti fa immedesimare nei suoi pensieri. Dire che questa canzone esorti a commettere violenza è un po' come prendere Darkness di Eminem, che racconta della mentalità distorta di un uomo che sta per compiere una sparatoria di massa e dire che incita a fare la stessa cosa. Ma Dio... Beh, però potrebbe anche un po' essere, perché ripeto, come ho detto io, potrebbe essere anche con l'ultima goccia per le persone non mentalmente stabili. Non lo sappiamo. Però cosa vuol dire che adesso non possono più cantare? Cosa dobbiamo vivere in una bolla dove non esistono cose che ti fanno pensare a determinate cose? Cioè... Boh! È tipo la censura, no? Che cosa bisogna fare? Censurare tutto adesso? Non parliamo più? Veniamo controllati dai robot? Boh, mi sembra esagerato, raga. Non lo so. Ma come si fa? Aristotele nel 370 avanti Cristo raccontava della purificazione delle passioni di chi assisteva a una tragedia, perché l'arte drammatica produceva un sentimento di pietà e terrore nello spettatore. Quindi è l'opposto dell'imitazione. È appunto la catarsi. Se una persona ascolta un testo simile e gli viene voglia di imitarlo, il problema non è del testo, perché la musica è uno strumento... Quello è vero! Il problema sicuramente non è del testo, perché la cosa che ti fa trabucare il vaso, che ti fa fare quelle robe, di certo... Cioè, potrebbe essere ovunque, potrebbe essere veramente ovunque, ma anche in film. Allora non possiamo più vedere i film thriller con i serial killer e quelle robe lì? Cioè... Potremmo fare, veramente, vivere in un mondo che non esiste? Un mondo magico, fattato, pieno di, boh, unicorni arcobaleni? Strumento? Il problema è dell'ascoltatore che evidentemente non sta bene, perché una persona per bene non concluderebbe, ok, mi ha ispirato a fare la stessa cosa. L'ascoltatore non sta bene e dovrebbe essere aiutato. Ci tocca davvero non parlare più di tragedie o fatti molto gravi che accadono? Vedete che una società che tiene sotto il tappeto il marcio può solo peggiorare, è destinata a ripetere gli stessi sbagli. Poi questo discorso io lo faccio a prescindere dal mio gradimento per queste canzoni, perché onestamente 9 canzoni trap su 10, per esempio, mi fa cagare. Mi fa ridere come nei testi si flexi continuamente roba di marca, perché se ci provassero qua in Sicilia a flexare, ad esempio, un Rolex, probabilmente sopra quel Rolex si creerebbe un timer di 14 secondi circa, che è il tuo tempo rimanente per utilizzarlo, mi piace quello che dice. Di Librino ti chieda cortesemente, in modo molto gentile e educato, di essere il nuovo proprietario di quel bellissimo orologio. Però non era la stessa cosa anche Detroit negli anni, cos'è, 90? Negli anni 80-90, in cui nasceva l'hip hop e i ragazzi poveri che riuscivano finalmente ad avere dei vestiti di marca e iniziavano a flexarli? Penso che questa cosa c'è stata già, ed è così che funziona. È ovvio che vai a flexare, perché è questa la storia, cazzo. L'hip hop nasce così, flexando. Guardate anche i vecchi video, ancora in bianco e nero, dove flexano i maglioni, tipo che cazzo di marca sono, non mi ricordo. Però flexano i maglioni, in tutti i video flexavano le scarpe. È così. E quindi quello che dice lui, sì, adesso fa ridere qui riguardo al Rolex, che potrebbe, se flexi il Rolex, potrebbero rubartelo. Però potrei dire la stessa cosa, probabilmente succedeva, e per forza succedeva anche negli anni 90, 80, quando la nasceva l'hip hop. Ma anche prima. Luccicante. Comunque, l'opinione di Dillo Senza Piangere su questa roba ve la salto, perché sarebbe un po' troppo controversa. Quindi meglio non fare ulteriore. Inoltre ha fatto scandalo una rima di sciva, questa. Ah, ma poi mi viene in mente, sapete cosa? Anche, poi vabbè, io lo dico come se ci avesse vissuto, ma non è vero. Ma vabbè, ma lo vedi dai film, avrò visto i documentari, si sa un po' com'è la storia, anche dei test delle canzoni. Cosa succedeva, per esempio, in America? Non so se succedeva anche in Italia, ma se avevi delle scarpe belle, spesso te le rubavano, quelli più bulli, e tornavi a casa senza scarpe. C'era un modo per dire, io sono il bullo, magari non ti picchio, però tu mi dai le tue scarpe, che sono nuove. Quindi succedevano queste cose, sì? Cosa dice però, cos'è sciva? E meglio non fare ulteriore. Inoltre ha fatto scandalo una rima di sciva, questa. Letteralmente, lui dice che nei suoi video, ci possono stare solo le ragazze, che lo hanno preso nel culo. Cosa c***o ve la prendete con lui? Prendetevela con le bacce, che la danno a cani e porci, perché sono delle riviste, che... Ma che c***o sto sentendo? Però anche qui è vero! Anche qui è vero! Ma perché le ragazze lo fanno? Per un po' di fama, probabilmente. Rompimento di c***o e queste femministeriche. La colpa è sempre dei maschi maschilisti privilegiati. Io però sono il primo a dire che in certi casi la community della trap è tossica. Guardate chi è venuto a minacciarmi in privato, solo per aver detto che sciva fa c***are. Ma se mi hanno scritto nei commenti riguardo Gianmarco Zagato! Cioè, per qualsiasi cosa, qualsiasi tipo di fan, di qualsiasi tipo di persona, cosa, può romperti il c***o, se non si è d'accordo. A me hanno rotto il c***o nei commenti per Gianmarco Zagato, che lo insultava. Non lo neanche insultavo, gli dicevo non metterti l'autobronzante, che stai male, sei a macchie. E mi hanno scritto, può fare, ma Gianmarco Zagato è quello che vuole. È ovvio che può fare quello che vuole. Però posso anche dirgli che sta malissimo. Cioè, io ci tengo alla sua pelle, capito? E alla sua presenza, alla sua bellezza. Cioè, per dire... No? Il mio commento aveva senso. Però i fan si incazzano, ovviamente. Perché no? Gianmarco Zagato può fare quello che vuole. Sì, certo. Ovvio. Però... Po, mi fa ridere. Piezza e merda, un documento, lo so. Ma quanti anni avrà questo? Mamma mia, pensare che sti ragazzini ascoltano la trap mi fa ridere, vero? Aspetta, torniamo indietro un attimo. Zagato solo per aver detto che Shiba fa c***are. Piezza e merda. No, voglio leggere la frase. Zagato solo per aver detto che Shiba fa c***are. Allora, io non so leggere in questa lingua. Eh, cos'è? È napoletano? No? Mo camampte che la buchi, piezza e merda, ci c***o vuole. Mo vagarica e bazooka con i ra... Cosa? Cosa? Cosa sto dicendo? Non lo so. Qualcuno vuole venire nel suo Discord. Qualcuno è napoletano in chat che me lo legge. Qualcuno me lo fa leggere ingiustamente. Cuba, zucca e rari rari. Che vuol dire? No, Francesco, se le scrivi per la prima volta in chat, ho paura. Vabbè, comunque abbiamo capito. Sentiamo quello che dice. Piezza e merda, un documento, lo so. Ma cos'ha in mano? Un taglierino? Mamma mia. No, raga, comunque è un po'... È vero che... Quello che vedono i ragazzini su internet... Mamma mia. Cioè, se stanno ancora cercando di svilupparsi, ma... Vedendo le canzoni, stando su TikTok, stando su YouTube e così via... Un po' il... Un po' il... Un po' di intelligenza la perdono. E lo sviluppo sicuramente viene... A mancare o viene a modificare... Cioè, si sviluppa in una maniera un po' come dire... Non giusta, secondo me. Però, andiamo avanti. Scusate. Piezza e merda, un documento, lo so. T'ho uccido. Questo macaco ambulante... Ti uccido? Ha messo il traduttore? ...ante, ha cominciato a parlare in caraibico. Macaco ambulante. Già mi immagino la scena. Questo bimbo Nutella, sarà andato dal padre, chiedendogli di dargli un'arma, per minacciare il dillo senza piangere. E quel camorrista del padre, gli ha dato quel taglierino, per prenderlo per il c***o e fargli fare una figura di c***o da grossa come le nuove c***o rifatte di Gaia di... Ok, cioè, dovevi semplicemente magari asfaltarlo, non uccidere lui e tutto il resto che ti viene in me. Bravo, mi piace. Mi piace come dice la cosa. E questo troll che ho fatto al bimbo Camorra, l'ho preso per il c***o, per i fondelli e per le natiche. Letta stop, you know we'll never give it up. People talk, but we just don't care. In this life, you know you gotta live it up. So everybody put your hands in the air! All the time, go to your... Spend would it. For you know we'll get in this life, people talk, but we just don't care. Ma io ti conosco, sei quello di salute Antonio E chi è? Porto la pistola, non ti permettere I tachir, tachir che vuol dire, ti uccido tipo Tuo padre non ti ha abbandonato? Strano cazzo Bimbo camorra, bimbo camorra, bimbo camorra, bimbo camorra Ma cosa? Ma è lui? Ma è quel ragazzo Perché io, quello non era Geremia o come si chiama? Mi sembra di aver visto un paio di suoi video Strunze merda, hai capito? Catteschiata cap Non parla più di Shiva e goliere Geo liere Perché loro fanno sord E tu sinu barbone Ti voglio fare un regalo, non è vero? Sinu merda Ti regalo il nuovo disco di Shiva Questo era tutto un prank, hai vinto Dammi la tua mail che ti invio i soldi Ok Dalla mail Non ti do un cazzo, bimbo camorra Dito medio Vabbè non so dirlo Pezzo di merda Pezzo di merda Quel bambino sarà un pericolo ambulante da grande Beh Pericolo ambulante E non dico altro Facci veni a papa Ti facci sparare in e pal Cosa vuol dire? Facci veni a papa Vieni da me Tipo ti faccio sparare nelle palle Ma quanti Mamma raga Ma cosa ci aspettiamo Dai bambini che crescono Magari circondati da questo È normale che siano così Quindi sì La community della trap A volte può essere tossica Ma non si può accusare un genere Di essere ispiratorio di una violenza L'arte non deve educare E non bisogna imitare come le scimmie Tutto quello che vediamo È facile fare la predica ai ragazzi Che fanno musica trap Quando le vostre figlie Vogliono fidanzarsi con il malessere di turno Dopo non si lamentassero Se vengono trattate da oggetti Un saluto da Lillo senza piange Vero Questa frase non può essere più vera di vera Non lo so cosa appena ho detto ma La frase Sono stra d'accordo con quello che dice Con quello che dice Perché Se ti metti con uno stronzo E questo stronzo non ti rispetta È colpa tua Perché ti sei messa con uno stronzo Vuoi rispetto? Trovati uno che ti porta rispetto Giusto? Giusto? Tipo Faccio venire mio padre E ti faccio sparare nelle palle Ho capito Sì ma dato che in strada ci sono le scimmie E vabbè perché È normale Se va a prendere un napoletano Che magari è circondato da Persone così È ovvio Cioè Vabbè non è che avrà andato a prenderlo Cioè Ha detto che Gli è arrivato questo insulto Proprio perché lui Ha detto che sciva Fa cagare Però si è creato Tutta la discussione Per niente Non lo so Fa ridere Comunque Madonna quanta rabbia che provo Contro i malessere E quelle che gli vanno dietro È Giardino Cosa fa Ora vi beccate la hit finale Perché questa collab è leggendaria E stai lì a guardare Cosa Sì ma il più falso Sulla strumentale Sono un bimbo Vestito da criminale Se avrò colpi sparerò Con me finisce male Domani esplodo Con la mia auto Blu in tangenziale Ti dico che faccio Rapine tutte le sere Però non è vero Mio padre Carabiniere Mi ricordo Che gli feci sentire Un mio tezzo Mi guardò con disprezzo E mi scassò in testa Un bicchiere Papino Comprami una Maserati E perché Così nei testi dico Che giro in Maserati Cosa ho appena visto Assurdo